Vetustà, controlli e manutenzioni non proprio sistematiche, come se non bastasse i nubi fragili fine novembre. A dura prova la tenuta statica di Palazzo Carafa, luogo dell'amministrazione della città, troppo fragile e quindi mal sicuro. Evidenti all'esterno i segni dello sgretolamento progressivo dei cornicioni e del parapetto sul lato dell'edificio che affaccia Sofia Rubichi. In corrispondenza all'interno, crepe preoccupanti rigano la volta al secondo piano. Nei giorni scorsi l'improvvisa ulteriore caduta di calcinacci ha dato il carattere della estrema urgenza agli interventi chiesti con apposita determina dirigenziale. Si interverrà per la messa in sicurezza a garanzia dell'incolumità sia di chi nel Palazzo ci lavora e di chi giornalmente lo frequenta, sia dei passanti in una delle strade più battute del nucleo storico e turistico della città. Si correrà i ripari perché si sono verificati dei fenomeni di microsgretolamento. Chiaro è che in questo momento le verifiche tecniche sono state da subito attivate da parte degli organi competenti al fine di verificare se sussiste appunto un fenomeno che è più allargato rispetto ai microfenomeni di sgretolamento che si sono verificati. Ma non lo si farà prima di gennaio, passate le feste, non è necessario creare ulteriori disagi e problemi alla circolazione in giorni tradizionalmente già caldi, anche perché non ci sono motivi di particolare allarme nell'immediato. Successivamente, come si specifica nella determina firma della dirigente del settore lavori pubblici Claudia Branca, un tecnico esterno si occuperà della verifica statica sull'intero immobile per il rilascio del certificato di doneità.